Ragazzi sono il Franci del futuro per dirvi che mi dispiace che il video praticamente io non avevo registrato lo schermo Però era venuto un video divertente quindi l'ho voluto lasciare Quindi voi vedete le risposte già fatte quindi già scelte Ho fatto gli screenshot però mi dispiace perché sono un idiota ok sono un idiota però guardatevi il video E' divertente lo stesso Vai prova l'agio Io che lavoro assai Pronto Zennifer Sì sì Buonasera Benvenuti in questo nuovo video io sono Franci e oggi sono con Gioele Ciao oggi sono Franci ieri ero Gioi Notte giorno Notte giorno Ragazzi mentre abbiamo l'ospedale dietro volevamo presentarvi questo video Oggi giocheremo a Vai 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 Avete presente quel gioco dove avete due scelte e dovete scegliere una scelta di una scelta No Allora tu preferiresti non vedere mai più il cielo o non vedere mai più l'acqua In che senso? Non mi interessa saltiamola che non mi interessa Preferiresti avere uno stipendio alto in un lavoro che non ti piace Avere uno stipendio basso in un lavoro che ami Che lavoro ami? Calciatore Calciatore non è un lavoro Il calciatore è un calciatore che calcia i tori Quindi i tori sono calciati E il calcio in cui le tori non li puoi dare perché sei un pacifista Avere uno stipendio basso in un lavoro che ami perché se devo lavorare mi voglio divertire A me niente Te la smetti di cliccare Presto Preferiresti correre per sempre Strisciare per sempre Correre per sempre Il primo che lui ti perdo E' meglio avere una faccia da culo che un culo in faccia Perla del giorno Preferiresti morire lentamente ma con non tanto dolore o morire velocemente con molto dolore? Morire lentamente Ma parla in alta voce Morire lentamente No lentamente lentamente Notti in bianco Allora vi sentite A zero il volume al massimo E quando ti rivedrai questo video esplorerai Lo sai il verbo passato presente Passato presente futuro essere mai stato Meglio avere un bambino oggi che un gioele domani Preferiresti parlare in corsivo o picchiare un bambino Tutta la vita picchiare un bambino Basta Leccare la maniglia di un bagno pubblico O leccare il pavimento di un bagno pubblico La maniglia Perché non leccare Gioele? Come vola Come vola Smoke and fly, drink and drive Yes yes Preferiresti riuscire a smettere di essere seri? O non riuscire a smettere di scherzare? Ah non riuscire a smettere di essere seri? Ok Non riuscire a smettere di scherzare Tanto noi seri non lo siamo mai stati Ora facciamo un video sale Preferiresti? Lei signore preferirebbe vivere in un anime Chiamato anche cartone animato giapponese Creato dai giapponesi O vivere in un cartone animato della Disney Creata nella Una delle prime associazioni di cartone animati Dove ci sono i nazisti Vivere in un anime In che anime viverebbe signore? Vabbè in un anime Un cartone animato Disney Se c'è la gioia la facciamo a biancanera Preferiresti avere mal di testa o mal di scomago? Mal di scomago Bevi solo acqua e alcol per il rischio della tua vita? Bevi qualcosa di diverso dall'alcol Acqua e alcol? No Acqua e alcol Meglio di così che c'è Sapere quando il mondo finisce O sapere come finisce il mondo Tipo Sapere che il mondo finisce ieri O sapere il motivo per cui è finito No vabbè Voglio sapere quando finisce Io no Dimmi quando tu verrai Ricevi 5 euro al giorno per il resto della tua vita? O 50.000 euro ora? Adesso qui 5 euro al giorno per Allora fai che un anno sono Calcolatrice 1.825 euro all'anno Vabbè 50.000 euro Poi faccio come quelli là che mi capitano su TikTok Oh Io so questo trucco di investimenti Io comprerò questa Playstation 5 a metà prezzo Perché le vostre norme Sono norme Non sa che io so Guarda qua Ho letto i vostri termini e condizioni E siete responsabili fino a 3.800 euro Mi scusi ma Chi le l'ha insegnato? E' stato Michael Ed è per questo che lo seguo Essere malnutrito Eh? O essere obeso Io sono già obeso Quindi va bene Se potessi essere imbarazzato in un modo Preferresti chiedere al tuo padre di raccontare a tutti del tuo vasino con le foto? O chiedere al tuo padre di mostrare le foto del tuo bambino muto agli strani? Papà vai racconta alla mia ragazza di quando avevo il vasino Questo è Franci mentre va sul vasino a forma di macchinina Era il mio vasino preferito Ce l'avevo a forma di macchinina ed era rossa Era bellissimo Compratemelo e regalatemelo Qui vedete queste mail Preferiresti essere un giovele o essere un bambino? No Fatti fulminare ogni volta che giuri O farci inserire tutte le parolacce sulla tua televisione Chi la guarda più la tv ormai? Aver 17 testicoli Ovvero un testicolo delle mie dimensioni di una noce di cocco Gioia c'è il pesco piccolo Se vedete qua dentro c'è un cricetto che gira Ambara 5 ho 17 testicoli Vabbè ragazzi è stato un video faldimentare Gioia è pure scappato È andato a picchiere i bambini Quindi spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciate like, iscrivervi al canale E attivate la campanellina perla la notifica di ogni video Adios Ciao Ciao Grazie a tutti.